Ecco le due finali, ecco, avanti ragazzi, le due finali, c'è la Virtus Ortona, i quattro colli, da questo lato, e da quest'altro lato si contendono la finale, la Virtus Castelfrentano e la Virtus Lanciano. Ecco, schieratevi, schieratevi ancora, voi a seguire, su, a seguire, pure voi, ok, se no no, comincia a mettere l'aria, vai a pressa al compagno, 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 più dietro, sta apposta, eh, eh, bravo, bravo, così. Bravo, bravo, così. Ecco, tutti schierati le quattro compagini, che tra pochi secondi faranno la finale, Virtus Lanciano contro la Virtus Castelfrentano, la quattro colli contro la Virtus Ortona. Mettetemi in ginocchio voi i due davanti, eh, loro due, così li vanno inteso, in ginocchio, come stanno i... Ah, in ginocchio, eh, in ginocchio. Eh, bello, così si vede steso, e voi li alzate, va bene. Ecco, tutti... Ecco, tutti... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.